Buongiorno, grazie di aver accettato il nostro invito. Le pongo la prima domanda. Comandante, per l'emergenza Covid il terzo stormo dell'aeronautica ha interagito con la protezione civile. Quali ospedali da campo avete trasportato e installato? Innanzitutto, buongiorno a voi. Così come per tutte le parti delle forze armate che in questo periodo sono coinvolti e ancora coinvolti nell'emergenza Covid-19, il terzo stormo è stato chiamato ad assicurare il supporto richiesto dalla protezione civile attraverso il dispositivo che è stato organizzato dal Ministero della Difesa e che è gestito dal Comando Operativo di Vertice Interforze. In particolare, l'aeronautica militare, avvalendosi degli specialisti del terzo stormo, ha curato l'allestimento di due ospedali da campo. Il primo è stato quello che è messo a disposizione dell'Italia da una ONG statunitense, la Samaritan Purse, e questo ospedale è stato realizzato in prossimità del locale ospedale maggiore della città di Cremona e questo veniva nel mese di marzo. In realtà il nostro impegno è iniziato ancora prima dell'allestimento, quando abbiamo accolto i velivoli che hanno portato in Italia i materiali necessari all'allestimento e anche il personale sanitario. Abbiamo lavorato senza sosta e pensi che soltanto 36 ore più tardi rispetto all'inizio delle operazioni, questo ospedale era già in grado di accogliere il suo primo paziente Covid. In maniera simile e analoga abbiamo operato anche a Schiavonia, in provincia di Padova, dove abbiamo allestito un ospedale da campo che è stato donato all'Italia dal Qatar. In questo caso però la struttura è un po' più complessa, più ampia e abbiamo realizzato fino adesso la parte infrastrutturale. Colonnello, a pratica di mare l'aeronautica ha curato il point of entry sanitario per accogliere gli italiani a rientro dalla Cina. Quali sono state le criticità che avete dovuto superare? Intanto mi piace evidenziare che la realizzazione del point of entry sanitario sull'aeroporto di pratica di mare ha segnato l'inizio del coinvolgimento del terzo stormo nell'emergenza Covid. Eravamo a fine gennaio e di questo virus avevamo ancora poco o nulla. La principale criticità è stata la corsa contro il tempo, perché non avevamo ancora la certezza della data del volo di rientro da Wuhan, volo peraltro assicurato da un velivolo dell'aeronautica militare, del quattordicesimo stormo. Ma non potevamo correre il rischio di non essere pronti per tempo. Quindi ci siamo organizzati, abbiamo caricato i materiali, le attrezzature, col personale specializzato e siamo partiti verso pari di mare. Un'altra criticità è stata quella di dover studiare e adottare tutte le possibili precauzioni per preservare dal contagio il nostro personale, il personale sanitario e lo stesso equipaggio del velivolo. Ci siamo trovati a gestire una situazione che avevamo provato solamente nelle esercitazioni e mai in un caso reale. E tutto questo ha dimostrato quanto sia importante addestrarsi costantemente per essere pronti poi a gestire delle situazioni di emergenza che come questa nessuno poteva immaginare. Dottor De Simone, l'impegno delle donne e degli uomini del terzo stormo che è a sede a Villa Franca in provincia di Verona, come continuerà in questa fase 2 della ripresa italiana? L'impegno del personale, delle donne e degli uomini del terzo stormo in realtà sarà duplice. Innanzitutto perché ci sarà l'impegno di cittadini, cittadini che devono essere responsabili sia nei comportamenti, sia nel rispetto delle disposizioni governative, regionali, che evidentemente sono la prima misura di prevenzione per contenere la diffusione del virus e congiurare una seconda ondata di contagi. Ma oltre ad essere cittadini, il personale del terzo stormo è soprattutto personale militare, quindi continueremo ad operare su tutto il territorio nazionale, ovunque questo sarà richiesto e continueremo a dare il nostro contributo affinché la nostra Italia possa finalmente ripartire più forte di prima e lasciandosi alle spalle questa terribile emergenza. Bene, grazie per essere stato con noi e buona giornata. Grazie a voi e buona giornata.